Moderna e tecnologica, ma legata alla tradizione del marchio che porta sul cofano. La nuova BMW Serie 4 Coupé è un'auto al passo con i tempi, sportiva ma senza rinunciare al comfort. Scopriamo i segreti di questa fuoriclasse bavarese. Imponenza, eleganza, dinamismo, queste le parole che meglio descrivono gli esterni della Serie 4 Coupé. Più lunga e larga del modello che la precede, la nuova BMW si abbassa verso terra per favorire le prestazioni. Il frontale è dominato dalla grande griglia BMW, circondata da fari allungati e sottili, rigorosamente full LED. Votati al comfort e decisamente orientati al benessere del driver, sono gli interni della nuova Serie 4 Coupé. L'abitacolo ospita due grandi schermi, uno dedicato al quadro strumenti, l'altro all'infotainment. I sedili e il volante sportivo sono in pelle, mentre il divano posteriore munito di poggiatesta integrati è ideato per ospitare due passeggeri. D'altronde parliamo di una Coupé, non certo di un van. I motori rispecchiano il nuovo corso green della casa bavarese. La M440 a benzina è dotata di tecnologia mild hybrid, così come la versione diesel. La potenza, tuttavia, non manca. Il motore top di gamma ha una potenza di 374 CV, mentre il diesel raggiunge i 340 CV. Per tutte le soluzioni è previsto un cambio Steptronic a 8 rapporti. A bordo della nuova BMW Serie 4 Coupé, l'atmosfera è altamente tecnologica. Sia il quadro strumenti che il display di controllo superano i 10 pollici e l'head-up display offre un'area di proiezione ingrandita del 70% rispetto al passato. Ci troviamo di fronte a un'auto molto digital, dotata di BMW Intelligent Personal Assistant. L'assistente vocale è voluto che fa davvero e proprio angelo custode al driver, mentre il sistema BMW Maps aggiorna in tempo reale i dati sul traffico. Una BMW è sempre una BMW, e poi parliamo di una Coupé. Il binomio è sinonimo di guida sportiva. La nuova Serie 4 offre il pacchetto M Sport con sospensioni specifiche e cerchi Lega M da 18 pollici. E per chi non si accontenta, il pacchetto M Sport Pro offre cerchi Lega M da 19 pollici, trasmissione Steptronic a 8 rapporti, spoiler posteriore e sistema Avio Surround. La nuova BMW Serie 4 Coupé arriverà in concessionaria nel mese di ottobre, a partire da 50.750 euro.